Quindi hanno sempre un esercizio, si dice, con 50 reti uguali e un altro misto. Intanto Aino Yamata per il Giappone che reggia col cerchio. Aino Yamata per il Giappone Aino Yamata per il Giappone Anche lei finisce con il lancio delle tre capovolte. Di solito si finisce proprio con...